Ciao a tutti gli appassionati di orologi, sono qui da Guglielmo. Ciao Mattia, ciao a tutti, ciao Guglielmo, siamo nel negozio di Novara, ritorniamo qua nel negozio di Novara. Perché siamo qua? Perché c'è una novità importante che spieghiamo dopo l'introduzione, ma comunque sia, oltre a questa novità, Guglielmo ci teneva anche a dare la possibilità a tutti voi che mi seguite, che ci seguite quando siamo insieme qui a fare i video, a contattarlo direttamente sulla sua e-mail, sul suo indirizzo e-mail. Sì, esatto, abbiamo introdotto due elementi di novità, uno lo scoprirete a breve, che è un marchio nuovo nel nostro negozio di Novara, e l'altro, come diceva Mattia, la volontà di essere più vicini e magari scambiarci opinioni, idee, riguardo al mondo dell'orologeria, e quindi metteremo a disposizione il mio indirizzo e-mail per tutti coloro che vorranno scrivermi. Bene, quindi non perdiamo tempo e buona visione. La novità importante di cui volevamo parlarvi oggi è del fatto che qui, da Boglietti a Novara, è arrivato Tissot. Sì, esattamente, era un po' l'ultimo marchio del gruppo Swatch che avevamo bisogno di avere in negozio, e mi è sembrato giusto inserirlo nel punto vendita di Novara, in cui abbiamo già Hamilton, e in cui ci serviva un prodotto entry-level per la nostra clientela. Quindi a grande richiesta, anche Tissot da oggi sarà disponibile presso di voi. Bene, e cogliendo l'occasione, dato che uno degli orologi più interessanti di Tissot, oltre al PRX, ma si parla già sempre del PRX, quindi volevamo cambiare un pochino, uno degli orologi recenti più interessanti di Tissot è il PR516, che è un cronografo. Quindi abbiamo deciso di fare una selezione di cronografi tra quelli più recenti, insomma, che sono arrivati in negozio. Tu dicevi, Guglielmo, che hai deciso di aggiungere Tissot perché ti serviva un brand che avesse dei prezzi un pochino più accessibili. In realtà poi si sovrappone spesso anche con i prezzi di Hamilton, altro marchio del gruppo Swatch, che tu hai qui a Novara. Per il momento, lei ha aggiunto da qualche settimana, la risposta come è stata? Cioè, ti è già capitato di avere delle richieste? Sì, la risposta è stata ottima perché è stata inserita proprio da pochi giorni. Abbiamo già venduto la special edition di Goldrick, quindi il cassa PRX ovviamente è quella attualmente più richiesta e che crea un pochettino più di interazione con i nostri clienti. Ci tenevamo anche a mostrare quello che non è PRX, perché Tissot è una marca molto importante che fa una pluralità di modelli e in questo caso un cronografo di tutto rispetto con una fascia prezzo molto interessante. Sul PR516 avevo fatto fino ad ora soltanto un reel su Instagram quando avevo avuto l'occasione di vederlo per la prima volta. Trovo che sia un modello molto interessante perché è una riedizione moderna di una referenza storica per Tissot e ci sono riusciti molto bene nel ricreare un po' lo spirito, il carattere di quel modello. Tra l'altro è anche ottima la scelta di aver inserito un calibro a carica manuale perché questo ha consentito di mantenere uno spessore non esagerato. Perché ne abbiamo parlato tante volte, il problema dei cronografi moderni è proprio quello. Sì, abbiamo riscontrato molto spesso il fatto che nei cronografi moderni lo spessore sia molto importante talvolta unito anche a delle dimensioni di cassa di tutto rispetto che su polsi piccoli potrebbero un pochettino dar fastidio e vista anche la tendenza del momento di ridurre le dimensioni a volte non si riesce a trovare una scelta di cronografi che possa piacere. In questo caso Tissot ha ridotto un po' lo spessore della cassa e devo dire che anche su polsi piccoli come quello di io e di Mattia riesce a uniformarsi bene l'orologio dando veramente una bella omogeneità sul polso. Devo dire che ha un'ottima vestibilità poi tra l'altro il bracciale pur non essendo assolutamente economico come fattura è anche abbastanza leggero, non aggiunge troppo peso quindi è un cronografo che in questa fascia di prezzo secondo me può dire la sua non ce ne sono più tantissimi in realtà di cronografi meccanici in fasce di prezzo tante economiche per cui anche questo prezzo qua che magari potrebbe sembrare non bassissimo in realtà ormai è diventato quasi un prezzo entry level tra i cronografi meccanici perlomeno. Il movimento all'interno è su base Baljoux e come vi dicevo prima è a carica manuale non a carica automatica il calibro non ha una decorazione particolarmente rifinita nonostante sia a vista dal fondello però probabilmente Tissot non ha voluto eccedere da questo punto di vista perché comunque è un orologio sportivo non è un orologio diciamo elegante quindi probabilmente hanno preferito puntare su altro. Il diametro della cassa è di 41 mm però un po' per com'è disegnata la cassa stessa un po' perché comunque sia c'è una lunetta con la scala tachimetrica non così tanto sottile è abbastanza spessa come larghezza diciamo devo dire che dà l'impressione di essere forse anche un filino più piccolo di questi 41 mm nominali diciamo e questo è anche responsabile come dicevamo come dicevo prima dell'ottima vestibilità al polso insisto a dire che secondo me è un modello molto interessante il prezzo come accennavo prima è anche allettante non l'abbiamo ancora detto è 1975 euro e secondo me ha questa cifra tenendo conto anche un po' di sconto si può dire questa parola? No non si può non l'ho sentita faccio finta di niente beh insomma cercate di implorare Guglielmo c'è la possibilità di portarla a casa anche con un prezzo un pochino più interessante e secondo me è un prodotto veramente molto valido questa è un altro marchio di cui abbiamo parlato varie volte insieme quando siamo qui a fare le nostre carrellate è Maurice Lacroix che anche in questo caso si conosce spesso per Icon ma anche in questo caso abbiamo scelto di parlare di altro di un altro modello perché intanto Icon lo conoscono tutti questo è il Pontos S Chronograph un cronografo che come della tradizione per Maurice Lacroix a livello qualitativo, a livello di materiali, di lavorazioni è fatto in maniera impeccabile la cassa se piacciono queste linee è fatta veramente molto bene personalmente non apprezzo troppo questo design mi piace moltissimo ad esempio il design del Pontos Diver però questo del Pontos S Chronograph mi lascia un po' più tiepido diciamo però la qualità è innegabile è un orologio con un diametro più importante e qua al contrario oltre ad avere già un diametro abbastanza importante perché è un 43 mm in questo caso la lunetta così sottile quindi lascia ampio spazio al quadrante dà forse l'impressione di essere ancora un pochino più grande quindi lo consiglierei per chi ha un polso abbastanza importante non noi però è un orologio molto interessante a livello qualitativo come dicevo il movimento all'interno è su base diciamo il progetto è base Valjoux poi non so se sia ETA come base oppure Sellita però Maurice Lacquare non dichiara in maniera diciamo trasparente quale sia il fornitore dei calibri in ogni caso è un calibro molto ben rifinito al contrario di quello che dicevamo a proposito del Tissot quindi se piace anche questo aspetto qui è decorato il calibro è un orologio curato da tanti punti di vista dal punto di vista del design basti vedere anche i tasti quelli pulsanti per il cronografo è un orologio sicuramente da tenere presente sì come hai detto tu prima quando pensiamo a Maurice Lacroix tendiamo a pensare ad Icon Icon è un modello uscito nel 2019 che ha rivoluzionato un po' il futuro del marchio Maurice Lacroix cambiando di fatto la rotta che sta perseguendo è stato un bestseller è attualmente un bestseller io anche parlando con la dirigenza di Maurice Lacroix sono fermamente convinto che si debba affiancare un'altra icona Icon continuerà a fare bene però nella storia di Maurice Lacroix che ha 50 anni perché l'anno prossimo tra l'altro ricorre l'anniversario del cinquantenario della marca esiste anche Pontos che è un orologio di assoluta qualità comunque con un design riconoscibile che non scimmiotta nessun altro orologio quindi sono fermamente convinto che si possa in questi anni lavorare anche sulla linea Pontos che ha un bellissimo diver l'abbiamo anche recensito in passato e questo cronografo di cui Mattia ha già accennato alcune caratteristiche che se si vuole qualcosa di diverso se si ha un polso abbastanza generoso potrebbe riservare delle sorprese ecco l'altra cosa è che come orologio rispetto al Tissot è anche parecchio più pesante un po' perché il diametro è superiore e un po' perché probabilmente la cassa di per sé è più pesante altro aspetto da tenere in considerazione perché ci sono sia gli amanti degli orologi molto leggeri che quasi non si sentono al polso sia al contrario gli amanti degli orologi di presenza che oltre ad apprezzare diametri abbastanza importanti apprezzano anche proprio sentire la sensazione di peso al polso di un orologio di sostanza sì è vero infatti io consiglio come sempre come dico in tutti i nostri video di venirli a trovare se è possibile perché ci si rende veramente conto del peso, delle dimensioni, della cassa, del bracciale ci sono tante variabili che indossando l'orologio si possono poi valutare insieme io per il discorso che facevi sull'iconicità di altri modelli di Modesto da Croix mi auguro che prima o poi rifacciano il Pontos Diver Crono perché io lo ricordo spesso ero riuscito ad acquistarne uno quando c'era stata una campagna di sconti del modello precedente una campagna di sconti sensazionale per il Black Friday con 70% di sconto fatto direttamente non da Guglielmo perché 70% da Guglielmo scordatevelo non si può vedere no 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 Guglielmo fa Arachiri per una cosa del genere era direttamente fatto dal marchio sul sito ufficiale ed è un orologio secondo me che ancora visto adesso a distanza di anni è veramente molto bello per cui vedere l'attuale Diver Diver nella linea Pontos reinterpretato in funzione cronografica mi farebbe veramente molto piacere per cui spero che Maurizio Lacroix in qualche modo stia già pensando a questo non lo so non ne sono al corrente l'importante secondo me è far capire anche agli appassionati che Maurizio Lacroix ha un'altra linea oltre ad Icon più se ne parla più l'appassionato lo capisce e poi magari si avvicina anche acquistando Pontos più secondo me invogliamo il brand a espandere un pochettino la collezione si è chiaro che poi è anche un po' un circolo vizioso perché quando tu hai un modello che stravende che piace tantissimo che incontra il gusto delle persone degli appassionati è difficile dire ma io ho anche il resto si ci provi però poi alla fine i marchi i produttori di orologi sono delle aziende che devono comunque fare dei profitti quindi è ovvio che puntino poi sul cavallo di razza il cavallo di cento questo è vero è infatti un po' la risposta istituzionale del brand secondo me bisogna sempre poi stare attenti che le mode hanno un inizio e una fine e quindi il rischio è di stufare con un monoprodotto o una monocassa purtroppo nella storia dell'orologeria ci sono anche esempi importanti e quindi l'alternativa anche se non è altobendente come può essere il best seller è sempre bene accetta sì anche perché la moda dei gentiani se così li vogliamo definire e in questa moda sicuramente ci rientra anche l'icon di Maurice Lacroix è una moda che sta andando forte già da qualche anno per cui noi non possiamo sapere nessuno può prevedere perlomeno non noi possiamo prevedere quanto andrà avanti quindi sarebbe giusto effettivamente iniziare a pensare ad un piano B cioè un altro modello che possa catturare il favore degli appassionati in ogni caso il prezzo di questo Ponto 6S Chronograph in questa versione è di 3.750 euro perché mi dicevi che c'è il doppio cinturino quindi oltre a bracciale c'è anche un cinturino esatto procedendo nella nostra rassegna passiamo ad un altro cronografo questa volta di Longines questo è il Conquest Crono che è stato presentato già da qualche mese questa è una variante secondo me interessante a livello di scelte cromatiche perché comunque ha questi dettagli rossi che gli danno carattere a livello estetico personalmente lo apprezzo molto anche in questo caso abbiamo a che fare con una cassa un po' più importante perché questo sono 42 mm devo dire che Longines ha lavorato bene per cercare di snellirla soprattutto a livello di spessore rispetto alla linea Spirit e gli Spirit Crono che risultano essere un po' più massicci comunque sia resta anche a livello di peso proprio di sensazione quando lo si tiene tra le mani più pesante rispetto al cugino cugino più economico di Tissot riguardo a Longines possiamo aprire una piccola parentesi secondo me Mattia legato al cambio di politica di prezzo che ultimamente sta percorrendo molti appassionati mi chiedono come mai questo prezzo di listino sia così aumentato e quindi c'è da dire secondo me che c'è un riposizionamento dei vari marchi di Swatch Group non solo di Longines verso l'alto cambiano anche gli aspetti stilistici degli oggetti della collezione Longines quindi giustificando almeno in parte l'aumento di prezzo che comunque è considerevole qui all'interno e questo è anche alla base del risultato che sono riusciti ad ottenere nel contenere lo spessore c'è il calibro L898 di Longines che è sostanzialmente un calibro modulare quindi è un po' l'equivalente dell'ETA 2894 anche se in questo caso ci sono delle modifiche richieste in maniera specifica da Longines la modifica più eclatante riguarda la riserva di carica che arriva a 59 ore è una specifica sicuramente interessante ha il vantaggio di essere più sottile rispetto alla linea Vajou diciamo e tutti i vari derivati Vajou e infatti è per quello che rispetto agli spirit crono questo è più sottile lo svantaggio è che a qualcuno non piace troppo l'idea di avere un calibro cronografico modulare anziché integrato anche in questo caso la decorazione dei ponti a vista e della massa oscillante è di buon livello quindi gli amanti di questo aspetto cioè delle decorazioni pur essendo delle decorazioni di tipo industriale ci mancherebbe non stiamo parlando di artigianalità comunque sia possono avere del pane per i loro denti mettiamola così il prezzo di listino in questo caso è di 4300 euro e passiamo ora al mio preferito insieme al Tissot questo e il Tissot sono sicuramente i miei preferiti di questa nostra selezione di oggi questo Oris Aquis Crono è uscito da qualche settimana anche se in realtà Watches and Wonders l'avevano già fatto intravedere ma non si potevano pubblicare contenuti sui social eccetera eccetera non si potevano divulgare informazioni in merito è un modello molto tecnico come la tradizione per la linea Aquis di Oris sarà per la linea che a me piace sempre tanto sarà per il colore perché casualmente questo blu azzurro tutte le varie tonalità del blu a me colpiscono sempre è un orologio che pur avendo delle proporzioni importanti perché qui siamo a 43 mm e mezzo quindi è il più grande della nostra selezione tutto sommato come spesso succede con gli altri Aquis veste bene grazie alle hanze corte poi chiaramente avendo a che fare con un diver che è cronografo che è anche automatico lo spessore è importante però trovo che avrebbero potuto anche far peggio nel senso che sono riusciti a mascherare piuttosto bene i volumi lo spessore cercando di svasare un pochino sia il fondello vero e proprio sia anche la parte finale della Carrure e quindi tutto sommato è chiaro che chi si compra un cronografo diver di questo genere deve mettere in conto di non avere un ultrapiatto questo è ovvio è un compromesso giusto e lecito però trovo che abbia il suo perché sì come dici tu Oris continua un po' il suo processo di crescita che nel post pandemia secondo me l'ha visto protagonista con dei prodotti di grande livello e anche dei contenuti tecnici che sono avanzati molto questo è piaciuto alla clientela che è piaciuta agli appassionati e quindi sulla linea Aquis forse mancava una cosa un po' così come quella che stiamo vedendo adesso è un prodotto molto tecnico direi anche gradevole anche se a volte i prodotti tecnici tendono a essere al polso un po' difficili da portare in questo caso Oris è riuscita ad ottenere un ottimo compromesso tra l'indossabilità e la tecnica all'interno il movimento è su base sellita quindi l'architettura poi è la stessa della famiglia Valjoux in questo caso la riserva di carica è di 62 ore e quindi abbiamo a che fare con le ultime varianti di sellita quelle più aggiornate è un calibro sicuramente molto affidabile e qui il prezzo tiene conto non tanto del calibro ma anche proprio della progettazione della cassa del fatto che abbiamo a che fare con non soltanto un cronografo ma come dicevi tu un diver questo è impremiabile fino a 300 metri è quello che a livello di impremiabilità ha le prestazioni migliori di tutta questa nostra selezione del resto è anche l'unico diver per l'appunto cronografo e quindi il prezzo che il listino è di 4400 euro tiene appunto conto di questo sarei molto curioso di vedere se eventualmente in un prossimo futuro Oris riuscirà a sorprenderci con un calibro cronografico loro in house sviluppando tutta la loro esperienza che hanno maturato appunto con i vari calibri nati dal 400 sì io credo non lo so ma da appassionato mi auguro che sia come dici tu Mattia perché calibro 400 è veramente un movimento ottimo e l'idea di svilupparlo anche su un cronografo sarebbe veramente veramente bello sicuramente bello anche da proporre ai nostri clienti nella chiusura c'è un'estensione rapida per la muta e questa non è una micro regolazione però c'è effettivamente una micro regolazione minima che dà un'escursione di qualche millimetro grazie alla quale è possibile regolare la lunghezza del bracciale in maniera più precisa per il proprio polso quindi sono stati eliminati i classici fori sulla scatoletta e quindi dalla vista di lato non vediamo più i 3-4 fori a cui siamo spesso abituati però comunque si è mantenuta l'efficacia la funzionalità della micro regolazione di qualche millimetro e viene fatto sempre tenendo premuti i tasti che sono quelli di sgancio della chiusura stessa e in questo modo è possibile allungare o accorciare il bracciale arriviamo all'ultimo modello di questa nostra selezione questo è un tagoiere e se già il monaco è un orologio iconico un orologio particolare perché è quadrato è un orologio storico importante perché è il primo cronografo quadrato automatico impermeabile chi più in api ne metta in questo caso c'è anche la particolarità in più di avere il quadrante scheletrato quindi il movimento non è esattamente scheletrato perché il movimento è sempre lawyer 02 ma qua è abbinato ad un quadrante scheletrato sì esattamente diciamo che come dicevi tu Tagoyer Monaco è un'icona io quando le aziende tendono a stravolgere un pochettino le icone sono sempre un po' scettico a me piace essere un po' più conservatore talvolta però in questo caso l'orologio è molto moderno è per una clientela che esiste che si sta affacciando sempre di più anche una clientela giovane che vuole magari un prodotto iconico ma anche con un tocco di modernità come dici tu il quadrante scheletrato è molto di impatto è molto bello non andiamo a cambiare o a stravolgere la meccanica rimane però un orologio totalmente diverso dal Monaco che siamo abituati a pensare quando vedevamo Steve McQueen magari in fotografia sì diciamo che sembra il Monaco arrivato dal futuro c'è scritto Monaco sul quadrante ha la forma del Monaco ha qualche reminiscenza del Monaco perché si capisce che il design è quello della cassa però è una reinterpretazione fortemente moderna e in questo senso può piacere o non piacere perché chi è come Guglielmo è più affezionato alla storicità e anche ai design del passato magari guardando questo rimane un po' insomma scettico un po' titubante è bello il mondo perché è vario ed è grande a me personalmente che comunque piace il Monaco quello standard devo dire che questa versione con quadrante scheletrato non dispiace affatto perché trovo che sia una versione appunto moderna che ci sta e ci sta aver pensato di offrire entrambe le possibilità perché comunque il Monaco continua ad essere regolarmente a catalogo in questo caso le particolarità non finiscono con il quadrante scheletrato ma c'è anche una cassa in titanio e questo lo si sente perché normalmente il Monaco nonostante sia un 39 mm di larghezza come cassa quindi non esageratamente grande è un orologio abbastanza pesantino quando lo si sente tra le mani e quando lo si porta al polso questo qua è molto leggero quindi il titanio da questo punto di vista come sempre dà un vantaggio enorme il calibro come dicevo è l'Oyer 02 ne abbiamo già parlato varie volte nei nostri video è un calibro secondo me molto interessante tra i calibri cronografici moderni è probabilmente uno dei più interessanti insieme alle novità e il premero quindi il 3600 l'ultima generazione del premero l'Oyer 02 ha una riserva di carica di 80 ore quindi anche da questo punto di vista è molto attuale è molto moderno come calibro ha uno smistamento a ruota colonne e tra l'altro la ruota colonne su Tagoyer è sempre messa in risalto con qualche colorazione un po' sgargiante in questo caso cosa che ovviamente mi fa molto piacere è in blu la ruota colonne quindi è decisamente gradevole da vedere il cinturino è un cinturino in gomma con questa parte esterna che non so se sia in vero tessuto o a effetto tessuto potrebbe essere anche microfibra esteticamente è molto bello diciamo che si sposa bene secondo me con questo aspetto moderno con questo design moderno di questa versione scheletrata poi immagino che a livello di vendite il modello che vende di più è sempre al solito si non è un bestseller nel senso che il bestseller ovviamente è la versione Steve McQueen o la versione Gulf io personalmente possiedo una la versione Gulf quindi sono particolarmente anche affezionato lo porto abitualmente è la versione precedente quella nuova è cambiata un po' però rimangono loro le versioni di punta questo si va a inserire per una nicchia di clientela che cerca un prodotto leggermente diverso il prezzo di listino è decisamente più salato rispetto a quello dei monaco tradizionali e questo è dato soprattutto dall'utilizzo del titanio e anche in parte della scheletratura del quadrante immagino qui si parla di un listino di 10.850 euro bene noi abbiamo finito questa nostra selezione per oggi come al solito speriamo che gli orologi che vi abbiamo fatto vedere siano stati di vostro gradimento vi ricordo come abbiamo detto all'inizio che Guglielmo lascia a vostra disposizione la sua email per chiedergli dei consigli sugli acquisti dei pareri chiedergli anche la disponibilità su dei modelli che magari non sono presenti sul sito ufficiale insomma contattatelo non contattatelo per invitarlo a uscire a cena o rompervi le scatole però contattatelo con moderazione io come sempre vi ringrazio vi invito a venire in negozio se potete o come diceva Mattia a contattarvi per discutere e parlare da appassionati di orologi grazie mille a presto con il prossimo contenuto grazie mille